Nuove strategie della lotta alle mafie, convegno con il Procuratore di Roma Michele Prestiglino. Ricerca ed innovazione nelle imprese, seminario con il Vice Presidente della Regione Lolli. Proteste per l'ex casa di riposo, i residenti scrivono al Sindaco di Avezzano. Contributi per il reddito di inclusione, domande pronte anche a Celano. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. In apertura di giornale una grave notizia che ha sconvolto oggi i residenti della frazione Case Castella di Balsorano. Una ragazza di 19 anni infatti, per motivi che ancora non si conoscono, ha posto fine alla propria esistenza nel bagno della sua abitazione. Sembra comunque, stando ad alcune indiscrezioni, che avesse perso il posto di lavoro negli ultimi tempi. A trovare il suo corpo, ormai privo di vita, è stato il padre. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, mentre la ricognizione è stata affidata al medico di Balsorano, Domenico Valletta. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sora. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Lara Seccaccini, che ha comunque rimesso a disposizione dei familiari la salma della ragazza. Un numeroso ed attento pubblico, formato da esponenti del mondo culturale marsicano, ex magistrati, avvocati, rappresentanti della Forza dell'Ordine, oltre al procuratore della Repubblica di Avezzano, Andrea Padalino, ha partecipato ieri ad Avezzano all'incontro con il procuratore di Roma, Dottor Michele Prestipino. L'aula magna del liceo classico Torrella di Avezzano non è riuscita a contenere le tantissime persone che hanno partecipato all'incontro con il procuratore di Roma, il Dottor Michele Prestipino. Tanto è vero che gli organizzatori sono stati costretti ad allestire una sala per la videoconferenza. Il Dottor Prestipino ha parlato della lotta alla criminalità in generale e dalla mafia in grangheta in particolare, non mancando di fare riferimenti anche ai tentativi di infiltrazioni di carattere mafioso in Abruzzo e dall'Aquila in occasione del terremoto. Significativo è stato il suo inizio di intervento. Nella lotta al contrasto della criminalità abbiamo costruito, ha detto, un paese migliore di 25 anni fa. L'incontro, quindi il procuratore, è stato organizzato dall'Associazione Culturale Avezzano Europa. A presentarlo sono stati il presidente dell'associazione, l'ex magistrato Dizio Montinari ed il coordinatore Filippo Fabrizzi. Per parlare di mafia, ha spiegato il magistrato, non si può non guardare alla nostra storia per capire il ruolo che ha svolto. Un fenomeno che ha avuto solo l'Italia a partire da quelli tradizionali dell'inizio Ottocento. Nella sua presentazione il Dottor Brizio Montinaro ha parlato delle numerose inchieste che il procuratore ha condotto a Palermo, Reggio Calabria ed ora a Roma. Ricordando, come abbiamo già detto, che ha iniziato la sua attività proprio ad Avezzano. Ascoltiamo il Dottor Montinaro. Dottor Montinaro, fra le tante iniziative dell'associazione, questo riveste una particolare importanza perché l'ospite è un personaggio di prestigio. Siamo veramente lieti di ospitare Michele Prestipino perché oltre ad essere un amico, oltre ad essere un magistrato che ha prestato servizio qui a Avezzano, è una persona di altissimo livello che tutti ci invidiano e che ormai è tra i primi magistrati d'Italia nella lotta alle mafie. Una presenza importante perché, come ha detto lei, è stato giudice qui ad Avezzano. Certamente, proprio per questo gli vogliamo bene e gli auguriamo che il suo lavoro sia fruttuoso perché credo che tutti gli italiani debbano ormai, a cominciare dai nostri governanti, impostare la vita anche sociale e anche privata, non dico solo alla lotta contro la mafia, ma anche alla lotta contro la mafia perché la mafia è un freno sociale e l'Italia ha bisogno in qualche modo di un nuovo risorgimento che passa, secondo me, anche attraverso la mafia. Anche perché poi anche la corruzione è dilagante, purtroppo. Anche perché la mafia ha dimostrato che, appunto, attività mafiosa specifica del passato ormai si è alleata all'attività politica in senso negativo dei pochi politici che delinquono, però in associazione con la mafia fanno una doppia forza maligna per l'Italia e per la società. L'attività della vostra associazione, credo che va avanti sempre con incontri interessanti, sempre sull'attualità. Noi facciamo cose, tutto sommato, semplici, però ci preoccupiamo di scegliere aspetti della vita sociale che abbiano un discreto interesse, e selezioniamo per quanto possibile i relatori che, se non sono del massimo livello, come in questo caso, come nel caso di Prestipino, tuttavia sono quasi sempre degli esperti di quella materia, persone che hanno un'esperienza diretta, che quindi sanno parlare in modo convincente. Un'azione di stimolo, se vogliamo. Sì, per quello che possiamo, insomma siamo tre o quattro, cito per tutti Filippo Fabrizi, che è stato l'animatore, colui che ha avviato questa nostra associazione, perché l'ha concepita lui, devo dire, all'onore del vero. Io sono stato chiamato al secondo o terzo incontro, fin dall'inizio, prima della Costituzione ufficiale, ma l'ideatore è stato Filippo Fabrizi. Merida chi merita, comunque buon lavoro per l'attività. Grazie, buone cose a voi. Il secondo step della politica industriale della Regione Abruzzo parte da un patto tra grandi imprese e piccole e medie imprese per la crescita armonica dello sviluppo regionale. A Pescar, Giovanni Lolli, Vice Presidente della Giunta Regionale, in apertura del seminario Ricerca ed Innovazione, grandi imprese e piccole e medie informazioni, lancia l'idea. Ogni grande azienda presente in Regione prenda sotto braccio piccole e medie imprese e le accompagni in un percorso di accrescimento delle capacità progettuali. L'idea nasce dall'esperienza registrata negli ultimi anni in ambito di programmazione europea, FERS e Fondo Sociale Europeo, che ha evidenziato una buona vivacità della grande azienda in tema di progettualità e partecipazione ai bandi pubblici. In tema di ricerca ed innovazione si sono registrate le migliori performance delle grandi imprese, a conferma soprattutto della bontà delle scelte che ha fatto la Giunta Regionale quando avviò la programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, puntando sul settore della ricerca e dell'innovazione. Quella, sottolinea Loli, è stata una scommessa vinta e la risposta dell'Abruzzo è stata sorprendente anche a livello nazionale. Ora, il passaggio successivo deve necessariamente volgere lo sguardo verso la piccola e media impresa in modo da creare le condizioni per garantire uno sviluppo armonico su tutto il tessuto produttivo regionale. In questi anni, non da meno rispetto alla grande impresa, anche la piccola e media impresa ha mostrato una grande capacità progettuale. L'intenzione, aggiunge Loli, è di indirizzare le scelte delle piccole e medie imprese verso la ricerca e l'innovazione ed in questo senso la strada assegnata in questi anni dalle grandi imprese può servire ad esempio perché solo in questo modo le aziende rimangono competitive e riescono a guadagnare fette di mercato. Numerosi cittadini di Avezzano, residenti nei pressi della ex casa di riposo San Giuseppe, hanno inviato una lettera al sindaco Gabriele De Angelis che è stata inviata anche per conoscenza alla Procura della Repubblica. Tra l'altro scrivono Nel prendere atto e nel ringraziarla delle iniziative già da lei adottate in merito alla vicenda riguardante l'ex casa di riposo San Giuseppe sita in via Toscana, tuttora occupata da disperati, gente senza fissa dimora ma anche da persone equivoche che con prepotenza, arroganza e disprezzo del vivere civile continuano ad essere fonte di disturbo e di tensione per noi residenti la sollecitiamo con ferma cortesia ma anche con determinazione a porre in atto ogni provvedimento che possa mettere la parola fine a questa ormai annosa e preoccupante vicenda. Le ribadiamo che noi residenti siamo ormai estenuati da continui atti di inciviltà, protervia ed arroganza da parte di non pochi occupatori abusivi di tale struttura che non meritano nessun atto di cristiana solidarietà e attenzione. Cristiana solidarietà e attenzione che il sindaco di Avezzano, come pure il Vescovo De Marsi, riteniamo, debbono riservare ed indirizzare alle persone anziane e fragili che dopo una vita dedicata al lavoro, all'onestà e della famiglia si trovano a vivere in condizioni di precarietà e di disagio economico. Come pure ci troviamo costretti a rifidare chiunque pensi di concedere i locali della struttura ex casa di riposo ritenuta agibile, anche se non capiamo come ciò sia possibile, a finalità che non siano quelle che motivarono la donazione del bene e cioè realizzare una casa di riposo per anziani, riportando finalmente nel nostro quartiere quella condizione di vivere civile e solidale che ci ha sempre contraddistinto. L'Istituto Penitenziario a custodio attenuata San Nicola di Avezzano nella giornata del prossimo 16 dicembre ha organizzato un momento di apertura dell'ambiente intramurale alla comunità esterna, quale spazio per lo scambio di auguri con gli ospiti del penitenziario in vista delle prossime festività natalizie e spazio per rinnovare con la comunità esterna, istituzionale e volontaria, l'intento di condivisione della responsabilità solidale di intervento costante e continuo all'opera di rieducazione e reinserimento sociale delle persone detenute in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. La giornata avrà inizio al mattino con la celebrazione della funzione religiosa ad opera del cappellano dell'Istituto Don Francesco Tudini. Proseguirà con il pranzo offerto a tutti gli ospiti grazie alla collaborazione della Confraternita di Misericordia San Giovanni che offre e prepara il pranzo dell'Associazione Cattolica, della comunità di Sant'Egidio e dell'Associazione Liberi per Liberare. Verranno quindi distribuiti dolci e piccoli doni personali agli ospiti dell'Istituto per segnare lo scambio di auguri. Il delegato alle politiche sociali del Comune di Celano, Maria Antonetta Zaurini, informa che presso il Comune di Celano, ufficio servizio sociale in via stazione, è possibile presentare domanda per l'accesso al contributorei, il cosiddetto reddito di inclusione. Si tratta come noto di una misura di contrasto alla povertà introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017 per il quale, dallo scorso primo dicembre, è possibile inoltrare la domanda. L'amministrazione comunale, dice la consigliera delegata Zaurini, è ben consapevole che solo attraverso azioni concrete è possibile dare sostegno alle famiglie che in questo momento vivono situazioni di disagio. Il reddito di inclusione sostanzialmente ha l'obiettivo di portare alla soglia del minimo vitale tutti coloro che si trovano in condizioni di estrema povertà. In sostanza, ai beneficiari, avendo tutti i requisiti richiesti, sarà concesso un contributo della durata di 18 mesi per l'intero importo o per la quota a differenza del minimo vitale stabilito in 485 euro mensili. Il contributo mensile sarà caricato su una carta di credito rilasciata dall'Ufficio Poste Italiane. La differenza con la precedente cartasia è che la metà del contributo concesso potrà essere prelevata in contanti. L'obiettivo finale del reddito di inclusione, aggiunge Zaurini, è quello di garantire il minimo vitale per la durata di 18 mesi a tutti gli altri richiedenti e dai beneficiari in età lavorativa ed attivare per almeno 12 mesi su 18 dei percorsi lavorativi con progetti di inclusione attiva finanziati con fondi PON. Il modulo di domanda può essere richiesto all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune ed è reperibile anche sul sito Internet del Comune, sul sito Internet IMS e quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In ogni caso, al Comune di Celano, all'Ufficio Preposto, è possibile avere tutte le informazioni a riguardo. La struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014 e coordinata da Gian Piero Marchesi, promuove all'Aquila una due giorni di approfondimento sui temi legati alla ricostruzione e al rilancio del territorio. Lunedì 18 dicembre, alle 10.30, presso la Lamagna del Gran Sasso, Science Institute, si svolgerà l'evento dal titolo Strumenti e Servizi Tecnologici della Ricostruzione, durante il quale saranno analizzati alcuni degli strumenti informatici sviluppati per la gestione dei processi di ricostruzione ed in particolare per la trasparenza dei dati, a partire dai web GIS, dal sistema di tracciabilità delle macerie e dal sistema open data ricostruzione. Saranno inoltre presentati i progetti incipite e per l'anello ottico ed il progetto dei sottoservizi della città di L'Aquila, finalizzati a dotare il territorio di maggior livello di smart. Martedì 19 dicembre, sempre alle 10.30, ma nei locali del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, via Nizza, si svolgerà all'evento il rilancio dell'ecosistema universitario nell'ambito del progetto di ricostruzione abruzzese. In questo caso, i rettori dell'Università e del Gran Sasso Science Institute presenteranno lo stato dell'arte del processo di rilancio dell'azione universitaria, anche a partire dal programma pluriannale degli interventi di ricostruzione degli edifici universitari e delle altre iniziative in corso. L'Istituto Paritario del Sacro Cuore di Avezzano organizza nei giorni 15 e 18 dicembre l'open day in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. È possibile iscriversi per il centro gioco dai 18 ai 24 mesi, la scuola per l'infanzia dai 2 ai 5 anni e la scuola primaria e secondaria di primo grado. La struttura è tra le poche della città ad essere in regola con le nuove normative antisismiche, a seguito di un ulteriore adeguamento strutturale avvenuto nel 2015. La scuola offre il servizio mensa nei due locali interni, adibiti esclusivamente al refettorio, un'ampia palestra dove svolgere le ore di attività motoria, un ampio spazio esterno attrezzato con parco giochi per bambini ed un campo di pallavuolo e calcetta. Tra le attività principali troviamo laboratori di informatica, di lingua inglese e tedesca, chimica e musica. Questi servizi sono a favore di tutti i gradi di scuola. L'Istituto è rappresentato dalla madre superiore, suor Marilena Cordone, ed è diretta dal professor Marco Ridolfi, a sede ad Avezzano, in via Mazzini, 173. Nella pagina Facebook è Istituto Paritario Apostolo del Sacro Cuore, il sito internet www.sacrocuoreavezzano.com. Sono ore febbrile in attesa quelle che separano il pubblico marsicano dal doppio concerto che Massimo Ranieri terrà alla cattedrale di Avezzano. L'occasione, come ormai da tradizione, è delle più prestigiose, ossia il concerto di Natale, che quest'anno giunge alla sua diciottesima edizione. All'interno del logo di culto, cuore pulsante del centro città, l'artista pertenopeo eseguirà tutte le sue principali canzoni, attingendo dal meglio di una carriera pluridecennale apprezzata e stimata in tutta Italia. Alla fine dello show, Ranieri riceverà il premio alla carriera Anna Luce, ideato nel 2000 dal maestro Massimo Coccia e realizzato a mano dall'architetto marsicano Alberto Cicerone. Una due giorni di grande musica, quindi, che proietta il capologo marsicano alle luci della ribalta nazionale. Era da tempo che avevamo in mente di ospitare un grande artista come Massimo Ranieri, afferma Massimo Coccia, è tra i musicisti più amati degli italiani, principalmente a causa del suo mutare pelle, a seconda dello show che decide di proporre. La sua ecletticità, infatti, gli ha consentito di avere una carriera così straordinaria ed invidiabile. Per noi è un piacere accoglierlo con entusiasmo nella nostra cattedrale, luogo di culto ma anche di aggregazione. L'appuntamento, lo ricordiamo, è per venerdì 15 e sabato 16, a partire dalle ore 20 e 45. Epi Christmas, questo è il titolo della compilation registrata dagli allievi dell'Accademia Musicale di Avezzano, che verrà rappresentato il 22 dicembre in occasione del concerto di Natale dell'Accademia che si terrà presso il Castello Orsini di Avezzano. Epi Christmas, un titolo evocativo e di buon auspicio per augurare a tutte le famiglie un sereno Natale. L'idea di registrare una compilation natalizia da regalare a tutti gli alunni è scaturita dalla volontà del direttore artistico maestro Stefano Fonsi di offrire a molti bambini, giovani ma anche adulti, la possibilità di registrare in studio mettendosi alla prova con una esperienza che molto spesso nelle scuole di musica viene trascurata. Registrare un brano è molto diverso dall'esecuzione live, sostiene il maestro Fonsi, perché con la registrazione si è costretti ad essere più attenti, precisi e concentrati al fine di ottenere un prodotto di buona qualità che resta a disposizione degli ascoltatori per tanti anni. Tutti gli alunni hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa dell'Accademia mettendosi alla prova e dimostrando di poter fare grandi cose anche solo dopo poche lezioni o pochi mesi di studia. A dimostrazione della grande apertura musicale dell'Accademia nella compilation sono presenti i brani di Natale, canzoni pop, rock, brani di musica classica ed anche per standard jazz. Alcuni brani estratti inoltre saranno distribuiti nei negozi digitali di dischi e di proventi saranno donati in beneficenza. Il presidente provinciale dell'Associazione Costruttori Ance Provinciali dell'Aquila, Ettore Baratelli, nel fare il punto di fine anno in una partecipata assemblea nel capoluogo, ha affermato abbiamo superato il 50% della ricostruzione privata, non così quella pubblica, con un codice degli appalti scritto male ed applicato peggio, ma le stazioni appaltanti hanno 600 milioni di euro da spendere nelle casse forti. Abbiamo chiesto di distaccare funzionari dai provveditori di l'Italia presso la nostra sede per dare un impulso alle gare pubbliche. Gli uffici devono tornare in centro, ma anche le chiese sono nell'impasse. Stiamo velocizzando la ricostruzione con la nuova amministrazione e gli uffici speciali, come la procedura accelerata per le pratiche sotto i milioni di euro, ha ricordato e ringrazio il sindaco che ha creato una task force di 12 persone che sta azzerando il problema dei pagamenti arretrati. Quanto alla Cassavile, secondo i dati elencati da Baratelli, ci sono 10 mila operai nell'intera provincia con flessione di 500 in un anno, da 9.700 a 9.200, tra le cause il problema del genere civile e la fine dei grandi aggregati di ricostruzione. presenti i vicepresidenti territoriali del capoluogo Walter Rosa dell'area Peligna e d'Alto Sangro, Marco Tirimacco e per la Marsica Roberta Palmerini. Tra i presenti i sindaci Pierligi Biondi, L'Aquila, Gabriele De Angelis Avezzano, Anna Maria Casini, Sulmona, il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, l'arcivesco consiglio Giuseppe Petrocchi, il comandante principale dei Carabinieri Antonio Servedio, il presidente della Fondazione Caris Park Marco Fantani, il manager dell'AIS Rinaldo Tordera, il presidente del Fondo Etico Aldo Mancacurti. Dopo il grande ritorno al discografico con il nuovo album Nomadi Dentro, i nomadi si preparano a tornare in concerto con un tour teatrale che partirà il 12 gennaio a Bergamo e toccherà le principali città italiane. Il nuovo album arriva a distanza di tre anni dal precedente lavoro in studio. Il titolo, carico di significato e fortemente voluto da Beppe Carretti, rappresenta a pieno l'identità della storica formazione emiliana. Allo stesso tempo è un buon album ricco di novità, tra tutte la presenza di Yuri Cilloni, voce della band dal 3 marzo 2017, che porta una ventata di freschezza al nuovo capitolo discografico dei Nomadi, la cui voce è stata già ritenuta da molti critici incredibilmente somigliante a quella dell'indicato Augusto Daolio, cofondatore dei Nomadi, insieme a Beppe Carretti. Insieme a Bergamo, Genova, Assisi, Roma, Padova, Brescia, Lugano, Milano, La Spezia, Torino, anche Avezzano ospiterà il celebre gruppo che ha segnato la storia del pop. Al teatro dei marsi i Nomadi terranno un doppio concerto il 29 ed il 30 gennaio alle ore 21 ed in esclusiva regionale. Prevendita dei biglietti con posti numerati ad Avezzano.info dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e 30 e per vendita online il 29 ed il 30 gennaio. E sempre a gennaio dal 15 gennaio 2018 sarà possibile presentare le domande a Invitalia per Resto al Sud, il nuovo incentivo all'imprenditoria Giovani e destinato al Mezzogiorno. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, a condizione che siano residenti nelle regioni coinvolte, tra cui l'Abruzzo, al momento della presentazione della domanda. Non risultano già beneficiari nell'ultimo triennio di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. I soggetti interessati possono essere già costituiti o costituirsi entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria in forma di imprese individuali oppure di società incluse le società cooperative. I progetti imprenditoriali possono riguardare la produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria o la fornitura di servizi, mentre non sarà possibile richiedere gli aiuti per l'avvio di attività libero, professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività ed impresa. L'incentivo è rappresentato da un prestito fino a 40.000 euro, il 35% a fondo perduto ed il 65% a tasso zero da restituire in otto anni per coprire l'investimento iniziale ed il capitale circostante della nuova attività. Per informazioni più dettagliate e per eventuali domande si possono consultare anche gli uffici della Confesercenti Aquila. La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luciano D'Alfonso, ha deliberato il provvedimento con il quale, dopo quasi dieci anni, è stato autorizzato, con la modifica del regolamento, il concorso per seguire le progressioni economiche orizzontali, il PEO riservato al personale interno della Regione Abruzzo. Il bando sarà pubblicato entro il 31 dicembre e prevede le progressioni economiche orizzontali per 717 dipendenti delle seguenti categorie. A, B, C e D, potranno partecipare i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno 5 anni di anzianità nella posizione economica di appartenenza. I sindacati hanno sottoscritto l'accordo integrativo lo scorso 15 novembre. Questo provvedimento ha l'obiettivo di valorizzare il nostro personale. Ha detto il Presidente Luciano D'Alfonso, vogliamo premiare i nostri dipendenti che all'interno della macchina amministrativa regionale svolgono quotidianamente un lavoro intenso e profiguo. Dopo dieci anni, conclude D'Alfonso, abbiamo avviato questa procedura che sarà seguita da altri concorsi mirati ad apportare energie fresche dell'apparato regionale. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antenna2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna2. Come possiamo notare dalla carta una intensa perturbazione di origine nordatlantica ci attraverserà tra giovedì e vederdì, dando luogo a rovesci di pioggia localmente anche di forte intensità. Successivamente arriverà una massa d'aria fredda di origine artico-marittima che dilagherà su tutto il nostro stivale nel fine settimana e all'inizio della settimana che viene. Come possiamo notare dalla carta successiva, vedete, numerosi sono i simboli di maltempo. Si tratterà di acquazzoni, rovesci di pioggia su gran parte del nostro entroterra, specie sui settori occidentali. Invece per quanto riguarda il sub appennino e la costa adriatica la situazione sarà all'insegna del tempo variabile con anche qualche schiarita, ma non mancheranno anche qui rovesci di pioggia. Venti provenienti da nord-ovest, mari mossi. Le temperature massime saranno in lieve aumento o stazionarie, invece le temperature minime subiranno una brusca diminuzione. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Grazie per la visione.